Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video FAQ, Q&A, ancora non so come chiamarlo, quindi vi invito a scrivere nei commenti come dovrei chiamare questa serie di video, cioè dove voi mi fate le domande e io vi rispondo. Nell'ultimo video unboxing, ossia quello dell'album di Salmo, vi lascio il link in descrizione del video, mi avete fatto delle domande a cui io risponderò con grande, 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 grande piacere. Iniziamo. Allora, Ghillie Comics fa Rizzo, una top 10 delle hit più stupide di tutti i tempi, giusto per mettere Bello Fico, Druce Baldazzi, Lily Angel, MC Fierly, Rap Ruman, MC Cavallo, tutti in un solo video. Ti direi di sì, perché io sono un amante del trash, se non l'avessero già fatto. L'ha fatto Jason Raider, vi invito a guardare il suo video, vi lascio il link in descrizione. Ha fatto uno o due video dove mette insieme tutte le canzoni peggiori o migliori, dipende da che punto di vista la vedete, del rap italiano. E quindi guardatelo che fa morire da ridere. Mr. SPN93 scrive, per me è stato il secondo acquisto in versione deluxe, il primo 16D più le 2 migliette di Beats and 8 di E-Green. PS, cosa ne pensi di Gesto? Allora, secondo me Gesto è un genio che la gente non riesce a capire. A volte tira fuori due pezzi che io dico, come cazzo hai fatto a concepire un testo del genere? Perché è veramente assurdo. E' estate super scialla, me la sono ascoltata per tutta l'estate quest'estate, quindi estate, estate, estate. Alessandro Capozzi, fai una serie dove ascolti e giudichi una canzone o un rapper, magari poco conosciuto, che ti viene consigliato nei commenti? Sarebbe figo secondo me. Non male come idea, perché prima non aveva senso, perché comunque avevo pochi iscritti, non che adesso ne abbia tanti, però ne ho sicuramente più di prima. Magari a chi ha meno iscritti di me, a chi ha meno views di me, forse riesca a fare pubblicità. Quindi sì, perché no? Scrivetemi sotto nei commenti, consigliatemi qualcosa, consigliatemi un rapper che è poco conosciuto ma secondo voi valido e ci farò una reaction. Allora, Gino Polpettone mi fa Parlaci di rancore, non era abbastanza bravo per lato Top 10 2015. A me piace un sacco il rancore, perché scrive veramente dei testi che sono assurdi, però ho preferito delle altre canzoni. Comunque non è che lo schifo, anzi, è un rapper molto forte attualmente. Nell'Albatro con Marrakesh l'ho adorato, veramente è stato assurdo, ha scritto un testo che ci ha olevati proprio. E spero di sentire nuovi suoi pezzi. Marco Steps Through ha nove domande, quindi iniziamo. La prima, Underground, il migliore Underground o Mainstream, il migliore Mainstream? Allora, non so il migliore esattamente, però sicuramente Mr. Rain ha del potenziale. Andatelo a sentire, ci sta. Mentre Mainstream, attualmente Salmo, se si può considerare Mainstream. Album preferito italiano? Per quanto riguarda il rap, sarà banale, però mi fist è mi fist. Album preferito internazionale? Allora vi devo fare una confessione, io non ascolto molta musica estera. Cioè, ascolto quello che passa in radio, ok? Le canzoni più famose le so, però diciamo che nel dettaglio non ne so molto. Quindi, schippiamo la domanda. Il miglior dissing sentito? In Italia direi quello tra Fibra e Vacca, perché non è stata solo una rima e una rima di là, una rima di qua, magari una canzone di là, però sono state più e più canzoni. Mi è piaciuto questo andare avanti, rime su rime su rime, video su video su video. Mi è gustato parecchio, si sono anche create un po' le fazioni, no? Fazione Fibra, Fazione Vacca, la gente non vedeva l'ora che uscisse il dissing, quindi secondo me è riuscito parecchio come esperimento. Migliore extra beat? Ah, migliore extra beat, raga, i Dargen in Tano 2000 non me lo potrà battere nessuno. Cioè, pure se me lo battete in velocità, rimarrà comunque nel mio cuore per sempre. E oltre a lui, mi ha colpito veramente Jamie Tides in King Supreme, appena l'ho sentito ho detto, porca troia. Produttore italiano preferito? Ora come ora mi sta piacendo un sacco Charlie Charles, Don Joe ovviamente è uno dei migliori e per quanto riguarda invece l'Underground, Bassi Maestro non lo batte nessuno. Produttore internazionale preferito? Non rispondo perché come album preferito internazionale è uguale. Miglior battle freestyle? Allora, la mia battle preferita freestyle è tra Ansi e Chiave. Nella finale di To The Beat del 2005, forse, non mi ricordo. Però quella lì è stata assurda. Poi quando Chiave disse al fratello di Ansi dicendo Tu mi annoi, tu mi annoi, tu mi annoi, tu mi annoi, perché sei ripetitivo. Madonna solta! Cioè, lì è stata assurda. Ansi era ancora un pischello sbarbato e tutto. No, è storia quella battle. Miglior freestyler? Ansi, Ansi. È il mio preferito. Anche se nella battle di prima, secondo me, ha vinto Chiave. Ha chiaramente vinto Chiave. Il miglior freestyler in assoluto in Italia è Ansi. Andiamo avanti! Tav, che saluto e mi invito a seguire la sua pagina. Vi lascio in descrizione il link della sua pagina Facebook. Mi raccomando, likeatela. È brutto e nerd, is the new figure palestrato. Fa morire, fa dei meni assurdi. Ascolta anche lui il rap. Presa la sesta edizione, bellissime le tavole del fumetto. Intende l'album di Salmo. Cosa ne pensi della ghost track del disco? Quella canzone mi ha fatto morire. Io ho un altro mio amico, Steppo, che saluto, che segue Salmo come un pazzo. Appena è uscito il disco, appena ci siamo sentiti la canzone. La prima cosa che ci siamo detti è, hai sentito l'ultima traccia che fa morire dal ridere. Allora, la parte musicale è celsa, veramente. L'ultima parte, cioè, veramente pazzesca. A parte il fatto che mi ha fatto morire dal ridere, però, credo rappresenti veramente una realtà italiana, se non internazionale, di come i manager si approccino agli artisti di qualsiasi genere musicale, immagino. Ed è per questo che apprezzo molto l'etichette in cui i manager sono essi stessi degli artisti, perché, secondo me, capiscono meglio le dinamiche non tanto commerciali del pezzo quanto di produzione. Se magari sono carenti per quanto riguarda la parte, diciamo, più legislativa della musica, per quanto riguarda invece la produzione, sono al top. Ovviamente, affiancati a degli esperti del settore, secondo me, riescono a dare meglio rispetto a dei manager messi lì perché hanno studiato la musica ma non ne hanno mai fatta. Diciamo che, diciamo, come dice il famoso detto, chi sa fare fa e chi non sa fare insegna. Quindi, chi non sa fare musica fa il manager. Federico Maniscalco, ciao Rizzo, più che una domanda è una richiesta. Parlaci della parte tecnica del rap, tecnica, metrica, flow, eccetera. Servirebbe per i neofiti un saluto. Io non credo di essere adatto a questo ruolo. Se però volete un video su un mio personale parere riguardante a tutto questo, lo faccio. Scrivetemi sotto nei commenti se lo volete. Non prendetelo come oro colato. Non è una lezione sul rap perché io non mi credo un maestro del rap in assoluto. Però, se volete, vi racconto la mia esperienza e come mi sono approcciato a questo mondo. Quindi, se lo volete, scrivetelo sotto nei commenti. Allora, Reset7TV. Ti è piaciuto di più Elvis Back o Nonostante Tutto? Allora, vi devo fare una confessione. Nonostante Tutto non l'ho ancora ascoltato. Per cui, se volete una forse list di Nonostante Tutto ve la faccio. Quindi, la domanda più ovvia a questo è Elvis Back perché è l'unico che ha ascoltato tra i due. Devo recuperarlo. Lo recupererò. Gesù mi chiede cosa ne pensi di Mezzosangue. Allora, Mezzosangue è uno dei rapper più particolari che ci sono adesso. Sia per quanto riguarda appunto il suo passamontagna, sia per quanto riguarda il flow che è molto marchiato, molto rauco, molto forte. Mi sta parecchio, secondo il mio modesto parere. Mi sembra che è stato una delle scoperte del Capitan Futuro Contest. Mi sembra. E ho adorato Mezzosangue. La canzone Mezzosangue di Mezzosangue. Il nome è Mezzosangue. Ci rivediamo al prossimo video. Mi raccomando, scrivetemi sotto nei commenti altre domande a cui risponderò nel prossimo Q&A. Mi raccomando, aiutatemi a trovare un nome per questa rubrica. Ci rivediamo al prossimo video. Bella!